Partenza regolare per questa finale seniors femminile 108 e 824 prima ammunizione e andiamo a campana del meno 12 dal prossimo giro diamo i punti ricordo i punti vengono dati alla prima e la seconda al traguardo e poi nell'ultimo giro la prima, la seconda e la terza e andiamo ai punti numero 11 7, 5, 7 e 90 e andiamo al passaggio meno 10 passaggio meno 10, punti 838294, questo è il passaggio meno 10 e andiamo al passaggio meno 9, altri punti in arrivo 838757, questi sono i punti in passaggio e andiamo al passaggio meno 8, passaggio meno 8, punti 2, 5, 2, 7, 5, 7, questi sono i punti in passaggio meno 8 e andiamo al passaggio meno 7, passaggio meno 7, passaggio meno 7, passaggio meno 7, 9, passaggio meno 7, 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 passaggio meno 7 passaggio a meno 6 8-3-8 e 2-5-2 8-3-8 7-5-7 punti a passaggio a meno 5 e andiamo verso il passaggio a meno 4 8-3-8 16 passaggio a meno 4 passaggio a meno 4 e andiamo passaggio a meno 3 7-5-7 8-3-8 passaggio a meno 3 e andiamo verso il passaggio a meno 2 passaggio a meno 2 i punti anche questi importanti 8-3-8 7-5-7 al passaggio a meno 2 8-3-8-8-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9 ed ecco campana ultimo giro forza 757 838 per gli ultimi punti del penultimo giro abbiamo finito campana adesso daremo punti alla prima la seconda e la terza che passeranno sul traguardo per chiudere questa finale segnale femmine del campionato regionale strada e andiamo 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 si chiude questo finale adesso vi dirò anche chi è arrivato primo secondo e terzo senza considerare i punti come sono arrivate? 757 808 e 40 questi sono gli ultimi punti dati per l'ultimo giro la gara non è ancora terminata nessuno è autorizzato ad entrare in pista per favore un dirigente del Cattu qui dai giudici per favore un dirigente del Cattu grazie in realtà in questa parte dell'ultimo giro sarà arrivato per prima l'808 dopo il controllo ha fatto finish 838 scusate